eccoci qua dopo tre giorni i nostri amici e ti sono in perfetta salute hanno avuto un problema di parto ma ho risolto io come al solito la carta non fa tutto quanto per per il meglio ma è sempre così sono bellissimi questa è una femminuccia questo è un'altra femminuccia questo è un maschietto chi vorrà adottare questi amici uno due o tre si potrà contattare sul messenger o sul mio contatto telefonico oppure anche su whatsapp fra 40 giorni saranno disponibili per l'affidamento vi riconsiglio perché sono proprio un amore questi qua sono veramente molto molto bene ok questa è la carta brava è fatto grande lavoro anche questa volta una carta un po rara che non viene capita ne nasce una su mille così ma sono dati grande speciale